Nessun bambino dovrebbe nascere per soffrire tanto. Dimostragli che per te la sua vita è importante. Chiama l'800-988-847 e toma 9 euro al mese. Ora. Quest'anno torna di gran modo, gli impermeabili. E che impermeabile? La trend della trend, signore. Mi ubbili bene, mi ubbili fa un sottotitore. Colombo, ogni domenica alle volte. Top Cry. Ehi, c'è un poliziotto, c'è un poliziotto, mettetevi giù! Una grande esclusiva su Top Cry. Detecti di un stedetto, trovare nella squadra stessa. Hanno cambiato un modo di svolgere l'immagine. Hanno risolto migliaia di casi. Riprenderemo. Hanno appassionato i telespettatori di tutto il mondo. È tempo di caldo su Top Cry. Io sono un buon poliziotto. Ogni giorno, un doppio appuntamento con le serie che hanno fatto la storia del polizismo. Unità vittime speciali, vogliono farle delle domande. Criminal Time, in realtà speciali. La prima stagione. Dall'11 al venerdì alle 19. Top Cry. La foto da sua marita. Non sarà un'altra vita, è troppo da me. Vale, la tieni a tentare.